dunque allora iniziamo oggi in questa seconda ora a tuffarci l'ho chiamato crash course perché in un'ora e mezza cerchiamo di condensare ciò che ci serve per partire e quindi ci mette operativamente in grado di fare le esercitazioni di laboratorio di domani iniziamo a conoscere questa libreria che si chiama java fx scritto java fx ma si pronuncia fx che è stata introdotta già ai tempi di java 7 come libreria grafica tra virgolette più moderna più semplice e alternativa alle vecchie librerie swing jvt avt e così via e ci permette di creare con relativa semplicità delle applicazioni grafiche che hanno un layout un'apparenza abbastanza contemporanea moderna e soprattutto non ci richiede di impazzire dietro a 10 mila dettagli perché in qualche modo hanno imparato la lezione dei siti web e quindi usano un meccanismo di costruzione di interfaccia che è molto simile a quello che avviene su web allora cos'è un'interfaccia grafica o meglio un'applicazione java con interfaccia grafica beh questo potrebbe essere un esempio di un esercizio che abbiamo fatto l'anno scorso in cui si doveva fare delle analisi sulla base dei risultati del campionato di calcio va bene quindi noi abbiamo una finestra che ha i soliti elementi che ci aspettiamo di vedere in una qualunque applicazione grafica quindi dei bottoni dei menu dei campi di testo delle scroll bar eccetera allora questa finestra in realtà è suddivisa dal punto di vista della libreria java fx in tre livelli diversi il livello esterno la cornice blu si chiama stage quindi java fx la libreria java fx chiama stage proprio un oggetto che si chiama java fx punto stage si riferisce alla finestra del sistema operativo che contiene l'applicazione vedete che nello stage dentro dentro la riga blu c'è l'icona dell'applicazione c'è eventualmente qui non ho messo il titolo dell'applicazione i bottoni per chiudere a minimizzarla eccetera eccetera questa roba che gestisce windows che gestisce il mac che gestisce linux che gestisce gestore del sistema operativo ovviamente un'applicazione deve essere visualizzata dentro una finestra e questa finestra viene presa in prestito dal sistema operativo quindi lo stage in java è l'oggetto che fa riferimento alla finestra dentro la quale gira l'applicazione a noi ce ne frega abbastanza poco di questo stage noi dobbiamo semplicemente crearlo dire quanto deve essere grosso le sue dimensioni e basta perché poi tutto il resto dell'applicazione dipende dal contenuto che ha quella finestra cioè cosa ci metto dentro una volta che ho creato la finestra questa è la vera applicazione in java fx questo si chiama scena scene quindi la classe scene rappresenta il contenuto che può essere inserito all'interno di una finestra di uno stage cioè tutto il contenuto della nostra applicazione questa terminologia stage e scena è un po' diciamo così teatrale no è copiata dall'ambito teatrale dove c'è lo stage fisso che è un luogo fisico e le scene che sono di varie contenuti che possono alternarsi su quello stesso stage questo vuol dire che la stessa finestra a un certo punto può cambiare i suoi contenuti e quindi alternare diversi stage diverse scene all'interno dello stesso stage noi per il tipo di esercizi che facciamo non avremo bisogno di questo tipo di complessità creeremo uno stage dentro il quale ci sarà una scena che sarà quasi sempre quella fissa però chi vuole fare di più di solito invece ha bisogno di avere più finestre che si aprono i contenuti di queste finestre che cambiano e beh questa java fx ovviamente ti permette di farlo la scena è il contenitore che contiene l'effettiva interfaccia grafica che è fatta di elementi che è fatta di un titolo è fatta di un etichetta stagione squadra è fatta di una casella di un menu discesa è fatta di un bottone è fatta di un area di testo è fatta di cose che non si vedono tipo spazi allineamenti raggruppamenti eccetera che posizionano le cose nel posto giusto tutti questi elementi che compongono la scena sono detti nodi i nodi della scena quindi java fx vi permette di costruire una scena cioè una videata la finestra il contenuto della finestra inserendo all'interno di questa scena vari tipi di nodi alcuni nodi sono nodi interattivi il bottone altri sono puramente di visualizzazione il titolo altri sono di servizio di layout servono per impaginare distanziare tenere incolonnati gli altri nodi quindi sono dei nodi contenitori quindi grosso modo i nodi si dividono a metà tra contenitori e controlli il controllo è un elemento interattivo che può permettere di visualizzare un dato all'utente ma anche di acquisire un dato dall'utente e questi nodi in java fx possono essere annidati uno dentro l'altro con un meccanismo gerarchico relativamente semplice da capire da usare ad esempio sulla destra di questa slide c'è la gerarchia dei nodi che corrisponde alla videata di sinistra qui noi abbiamo una scena che contiene un nodo principale che di tipo border pain quelli il suo fisso pain pannello sta a indicare i nodi di layout che un pannello che contiene altre cose i pain sono di per sé invisibili ma contengono altri nodi e determinano la posizione in cui gli altri nodi verranno visualizzati un border pain è un pannello con cinque elementi uno centrale e quattro periferici cioè c'è un centro un sopra un sotto un sinistra un destra in questo esempio c'è scritto che il border pain ha qualche cosa nel suo top non ha niente nel left infatti qui dice inserisci un left perché manca non ha niente nel right non ha niente nel bottom ha qualcosa tanto nel centro quindi vedete che il border pain ha cinque figli 1 2 3 4 5 dei quali due sono riempiti da cosa il top è riempito da un nodo di tipo label etichetta un testo è un'etichetta e sarebbe questo il e c'è solo questo nel top quindi non si vede che serie a e stagione sembrano uno vicino all'alto in realtà serie a è dentro il top del border e invece stagione è qua dentro molto più annidata nel centro cosa c'è nel centro un nodo che si chiama v box che contiene a sua volta due nodi grid pain e text area ci siamo già persi non è un problema poi quando lo facciamo interattivamente più facile cioè ho il centro è strutturato in due parti in due sottonodi questo e quest'altro raggruppati in un nodo di layout che si chiama v box v box significa vertical box scatole impilate verticalmente una sotto l'altra quindi c'è un sopra e c'è un sotto in questo caso ci sono solo due potrebbero essere tre o quattro nel sotto c'è una text area che è questa bianca nel sopra nel primo elemento figlio del v box c'è una tabella grid pain una griglia di dimensione 3x2 due righe una due tre colonne una due tre e nelle sei caselle ci sono o delle label o delle choice box che sono questi menu a discesa o dei button che sono queste cose qua questi bottoni da premere quindi costruire l'interfaccia significa prendere familiarità con questi elementi sono pochi alcuni sono tanti ma quelli che servono di più sono pochi che sono alcuni elementi di layout io metto un v box perché voglio che l'area di testo sia sotto i bottoni se volessi che l'area di testo fosse a destra dei bottoni metterei un h box horizontal box che affianca gli elementi in serie orizzontale e così via quindi conosco quali sono gli elementi di layout principali e conosco quali sono i controlli principali qui ce ne sono tre dei quattro che useremo quasi sempre c'è la label va bene è un'etichetta un testo visualizzato bottoni menu tendina area di testo text area e poi c'è il campo text field un singolo campo di testo di una riga sola adesso lo vediamo subito interattivamente quindi il modo con cui concepiamo l'interfaccia grafica è questo quali sono gli elementi interattivi e come vengono posizionati impaginati uno a fianco dell'altro uno vicino all'altro definito questo albero che si può fare con quel programma che si chiama sim builder interattivamente graficamente avremo automaticamente creato l'interfaccia per il programma quindi il programma java quando parte creerà automaticamente questa interfaccia con questi bottoni posizionati in questo punto poi ciò che rimarrà da fare è decidere cosa il programma deve fare quando l'utente clicca in un bottone oppure clicca nell'altro questo poi il lavoro nostro ovviamente ma ci arriviamo cominciamo a conoscere un pochino meglio questa libreria allora questo grafico che è il leggibile ovviamente ci dà la panoramica di quelli che sono i tipi di nodi principali quindi i nodi dicevamo sono gli elementi che possono essere inseriti nella scena ci sono ve lo leggo per macro famiglie questa è la classica che si chiama javafx.scena.node i nodi sono di tipo parent, shape, canvas o image view ma quelli che ci interessano di più sono allora shape lo buttiamo via non lo useremo quasi mai perché sono l'arco, il cerchio, la linea serve per disegnare delle forme quelli che invece ci interessano di più sono i parent cioè nodi che possono essere genitori di altri nodi che possono contenerne altri e dentro i parent c'è una famiglia molto grande che sono i control questo control prende tutti questi tutta questa parte circa metà del grafico sono tutti i controlli e ci sono i vari elementi visibili all'utente e che possono interagire con l'utente e poi ci sono i pannelli anchor pane, border pane, flow pane, grid pane, h-box, v-box, title pane, stack pane che sono di tipo pane che sono di tipo region qui sotto ci sono le parti legate al layout quindi vedete che a spanne metà sono controlli e un po' meno di metà sono elementi di layout per vedere un po' meglio la bibbia è questa c'è i sorgenti il java doc della libreria java fx che qui c'è online e la potete consultare se andate a vedere c'è una package che si chiama java fx che contiene tutto tra cui ciò che possiamo mettere dentro la scena è sotto il package punto scena punto control qui ci sono tutte le classi che costituiscono i control possibili controlli dicevo sono tanti ma a noi ne serviranno pochi si usano quasi sempre gli stessi mentre invece punto layout contiene scusate, dove è? region control aspetta, mi sono perso, era qua parent region contiene invece gli elementi di layout un altro modo più comodo di navigare queste cose dove è andata la finestra di powerpoint qua è questo signore che ha fatto in modo ha costruito una serie di videate grafiche sempre online in cui ci sono tutte le librerie java compreso ovviamente le librerie java fx quindi anche le librerie se cliccate su java vi fa vedere le varie tutte le librerie della della libreria standard java tutti i vari package e per ciascuno tutti i dettagli è un modo grafico di navigare la documentazione e quindi per java fx abbiamo ad esempio control sim.control che ci permette di visualizzare ad esempio la gerarchia dei controlli tutti i nodi di tipo control ad esempio il nostro button dove era? qua quindi se andiamo su button il bottone cliccabile andando sopra ci da direttamente il java doc quindi la spiegazione di quel bottone le spiegazioni gli argomenti eccetera eccetera di quella classe quindi è un modo anche comodo di esplorare un po' meglio la gerarchia degli elementi quindi questi ovviamente sono tantissime classi ma come dicevo noi avremo bisogno di solito solamente di conoscerle più importanti allora per farlo per cominciare a conoscerle cominciamo a costruire un primo progetto un progetto molto semplice in cui l'utente magari inserisce il proprio nome e il sistema gli scrive una frase che contiene il suo nome non facciamo Hello World ma facciamo Hello Fulvio allora per far questo creiamo un primo progetto e così vediamo anche i passi pratici per poterlo fare in Eclipse allora qui ho aperto Eclipse con installato quel plugin Eclipse che si installa dal marketplace qua sotto quindi andate in marketplace scrivete JavaFX e vi trova un'estensione che si chiama Eclipse 3 versione 3.0 una volta che avete fatto questo quando create progetti nuovi voi siete abituati a fare progetto Java o qualcosa del genere invece andate su progetto project puntini puntini quindi il caso generale e vi compare l'elenco completo di tutti i possibili progetti che potete creare quando create un progetto Java normale vi apre questo invece noi dovremmo aprire un progetto dentro il plugin FX Clips è impronunciabile scusate vi crea un nuovo sottomenu JavaFX all'interno del quale c'è un JavaFX project quindi in questo corso creeremo sempre progetti di tipo JavaFX quindi scegliete di creare un progetto JavaFX e qui ci sono le solite domande che ci fa Eclipse per poter creare il progetto ok? quindi lo chiamiamo HelloMe un programmino che scrivo il nome e lui mi saluta e io sono contento primo warning il tasto finish in Eclipse non toccatelo male viene da dire ah HelloMe finish no perché vi fa una serie di domande alcune delle quali per alcune delle quali non ci va bene la risposta di default in automatico ok? quindi una delle cose che dovete vi obbligo a imparare questo corso è andare con calma clicca solo dopo che sei sicuro di cosa stai facendo perché poi Eclipse è abbastanza antipatico se fai un passo falso puoi tornare indietro recuperarlo di solito diventa complicato allora le informazioni che dobbiamo inserire sono due una nella prima schermata è il nome del progetto e l'abbiamo messo poi però c'è una schermata in più allora qui ci chiede di usare di definire quale macchina virtuale Java usare va bene la 1.8 che si è installata qui va bene tutto il resto ci piace secondo passo mi chiede di specificare dove sono i sorgenti altri progetti le librerie che uso eccetera eccetera per ora ci va bene così non abbiamo bisogno di librerie aggiuntive poi più avanti in cui ci serviranno altre librerie dovremo anche agire su questa parte ma per ora non va bene così quindi la seconda videata va bene la terza è quella importante che non c'è di solito ma con JavaFX è stata aggiunta dove dobbiamo dire come si chiama come vogliamo che si chiami il package Java dentro il quale l'applicazione viene creata allora lui mi crea un package di default mi creerebbe un package che si chiama application che mi fa schifo come nome quindi diamo un nome sensato a quel package i nomi dei package per convenzione dovrebbero seguire la gerarchia puntata dell'organizzazione che li realizza quindi i package che faremo i programmi che faremo vivranno tutti per noi nel nostro corso in un package che si chiama it.polito.tdp tecniche di programmazione polito.it letto al contrario perché accende al generale particolare e poi ci mette il nome dell'applicazione HelloMe questo se vogliamo è un aspetto estetico ma già che ci costa poco diamo un nome sensato perché altrimenti poi prendiamo un pezzo di un programma e un pezzo dell'altro cerchiamo di metterli insieme e vanno in conflitto perché si chiamano tutti application e vabbè il package in cui si siederà il main poi c'è la parte sotto che è ancora più importante per noi che ci dice l'interfaccia utente qua in questa declarative UI UI sta per user interface cioè l'interfaccia utente in questa domanda lui ci sta chiedendo l'interfaccia utente te la costruisci tu un mattone per volta in Java o vuoi usare un metodo dichiarativo interattivo per costruirla perché visto che è un bottone è un oggetto button nessuno mi viete di fare new button e dargli tutti i parametri che servono ma JavaFX è molto comodo perché ci permette di editare graficamente un file XML e poi il programma se lo prenderà da solo in automatico per far questo per far generare questo file è necessario dire ai clips che vogliamo che l'interfaccia utente venga generata a partire da un file FXML FXML è il tipo il formato di questo file che è un gioco di parole tra FX di JavaFX e XML che è il formato in cui vi è scritto non ha mai fatto ridere nessuno questo gioco di parole ma l'hanno chiamato così gli è piaciuto tanto quindi creiamo un file decidiamo che l'interfaccia utente la scena quindi contro i nodi della scena li definiamo in questo file XML e lui ci chiede a questo punto come si chiama il file XML che vogliamo controllare che vogliamo creare e come si chiama il nome della classe controller allora il nome del file FXML lo possiamo scegliere come vogliamo sample non è un bel nome lo chiamerei allomi che è il nome dell'applicazione quindi lui creerà un file che si chiama allomi.fxml e una classe java che ha il ruolo di controller dell'interfaccia grafica allora il ruolo del controller lo vediamo tra un attimo in estrema sintesi è una classe che deve sapere come l'interfaccia si deve comportare quando l'utente clicca sulle cose è la parte di intelligenza dell'interfaccia grafica e quindi lui mi chiede come vuoi chiamarla questa classe vabbè io che ho poca fantasia la chiamo allomi.controller adesso posso cliccare su finish non prima se l'avessi cliccato prima mi avrebbe lasciato qua i nomi di default con l'fxml che si chiamava sample.fxml e me ne vergognavo al finish adesso lui mi crea come sempre un progetto nuovo dove vedete che in questo progetto c'è la libreria java normale lui ha già portato dentro la libreria javafx che è già inclusa in java non abbiamo dovuto specificare nulla e dentro mi ha creato il package lomi con dentro una piccola manciata di file main.java che è il programma vero e proprio la classe lomi.controller che guardiamo questa per ora è vuota quindi ha solo creato una classe che non fa nulla ci dobbiamo poi pensare noi dopo la classe un file application.css che adesso è vuoto ma che eventualmente potrà contenere i fogli di stile per personalizzare l'aspetto grafico di css non parleremo in questo corso li vedrete con l'ioi quando farete l'interfaccia web lo stesso linguaggio che serve per definire gli stili grafici quindi colori spazzature font eccetera nei siti web può essere usato per modificare l'aspetto grafico anche dei programmi javafx semplicemente dovete mettere dichiarazioni opportune dentro questo file css ma a noi interessa minimamente questo aspetto quindi ma quello che imparate di là lo potete riusare esattamente tale quale di qua poi c'è il file fxml che se apro qua è vuoto è un file xml che però non contiene nulla e finalmente c'è il programma però dovremmo costruire e finalmente c'è il programma main il programma main ovviamente crea un'applicazione vuota fatta in questo modo la vediamo sulle slide che dove è commentata tutti i programmi javafx definiscono una classe che estende una classe application application l'abbiamo definito qua javafx.application.application quindi la libreria javafx contiene già dentro di sé una classe application che conosce il comportamento di una generica applicazione grafica quindi sa già cosa fare nei casi normali sa già cosa fare quando l'utente ridimensiona la finestra sa già cosa fare quando l'utente scrive in un campo di testo sa già cosa fare quando l'utente schiaccia l'invio sa già cosa fare quando usa una scrollbar eccetera eccetera la classe application sa già cosa fare conosce già il comportamento di tutti i nodi di tutti i controlli base quindi noi estendendo application ci portiamo in eredità un'applicazione che non fa nulla ma lo sa fare bene cioè non fa nulla di specifico ma il comportamento grafico è già corretto già completo per questo è molto più semplice rispetto ad altri toolkit grafici non devo preoccuparmi di queste cose infatti il metodo main del mio programma altro non fa se non chiamare il metodo launch della classe madre cioè il mio programma main dice ok lancia l'applicazione sarebbe super.launch metodo launch della classe madre application e lì fa tutto lei cioè tutto il lavoro lo fa la classe application ovviamente la classe application non può sapere qual è la scena e quali sono i nodi che vogliono metterci dentro quindi a un certo punto la classe application chiama il mio metodo start lei ha già un metodo start che non fa nulla ma io nel mio programma posso fare l'override del metodo start della mia classe madre e qui è dove ci metto il codice di avvio della mia applicazione cosa fa il codice di avvio dell'applicazione? beh essenzialmente carica una scena dal file fxml dice all'applicazione guarda che la scena quindi contenuto della finestra del mio programma l'ho descritta in quel file fxml quindi leggilo e crea i nodi di conseguenza c'è questa classe che si chiama fxml loader che è una classe come dice il nome load carica l'fxml e ritorna una scena o meglio l'elemento il nodo principale di una scena il nodo che sta in testa nell'esempio di prima era un border pane a questo punto avendo tutta la scena presa per un orecchio cioè per il suo nodo principale posso creare un nuovo oggetto di tipo scena agganciandoci quel nodo radice quindi con queste tre righe creo una scena che può contenere 100 nodi o controlli i quali li ho disegnati graficamente poi ho altre istruzioni che vedremo meglio tra un attimo in cui creo il controller e lo collego alla scena e finora che cosa ho fatto? ho creato una scena ho creato una classe controller di cui per ora non so cosa fargli fare quindi la teniamo in sospeso per un attimo e a un certo punto devo mettere tutto insieme e mostrarlo video per mostrare lo video devo costruire uno stage la scena deve essere inserita in uno stage cioè in una finestra per poter essere visualizzata perché lo stage è l'unica cosa vera che esiste a livello di windows di sistema operativo e quindi lo stage me ne viene già creato uno in automatico della mia application mi viene passato come parametro primary stage e io dirò ad un certo punto parameter stage punto set scene della scena che ho appena letto dall'fxml quindi ho i nodi nell'fxml li leggo creo una scena che contiene quei nodi e visualizzo metto in scena la scena all'interno del parameter stage con questa istruzione imposta la scena sullo stage e mostra lo stage sono sempre le stesse istruzioni in qualunque programma java effects e sono già praticamente scritte per noi questo è un po' più breve adesso poi aggiungeremo i pezzi che ci servono questa è la versione minima minima se io volessi potrei adesso già fare run di questo programma run come java application e mi si apre un bellissimo stage che contiene una scena vuota la scena ha zero cose dentro però ha già una finestra la posso spostare la posso ingrandire la posso chiudere posso divertirmi tutto il giorno con questa finestra è già già un'applicazione completa adesso però io vorrei metterci qualcosa dentro per metterci qualcosa dentro il modo più semplice è di editare il file fxml il file fxml lo edito col programma che si chiama scene builder dove? scene builder questo qua è possibile dire a Eclipse dove abbiamo installato lo scene builder in una preferenza che trovate qua scene builder executable se voi gli dite dove avete installato lo scene builder lui vi permette quando siete qua di fare a tasto destro apri con scene builder io non l'ho fatto non lo faccio adesso perché sennò divento pazzo trovare dove l'ha installato perché lo nasconde sempre e quindi poi lo farò con più calma non in diretta lo apro a mano questo è l'aspetto di scene builder che contiene a sinistra la libreria java fx tutti gli elementi della libreria java fx organizzati per argomento in centro un canvas vuoto in cui posso disegnare la mia interfaccia e sulla destra tutte le proprietà dei singoli elementi che adesso andiamo ad aggiungere allora per poter fare qualcosa di utile devo andare ad aprire il file fxml del progetto che ho appena creato che è qua basta ricordarsi dove è il workspace se lo trovate poi una volta impostata la preferenza giusta in eclipse ve lo apre lui direttamente allora in questo caso ho caricato vedete che il file è lomi.fxml ho caricato l'fxml che è vuoto non contiene ancora niente o meglio contiene un nodo vedete che qua sotto c'è una sezione che si chiama document dentro document c'è gerarchia e contiene l'elenco dei nodi in questo caso contiene un border pane come è fatto? perché? perché è un border pane non altro ma perché io in quella famosa terza videata della creazione di un nuovo progetto mi chiedeva qual era il nodo radice e per default è il border pane che è quello che normalmente si usa come nodo principale però avrei potuto scegliere uno diverso in fase di creazione del progetto e sarebbe stato il primo nodo messo qua dentro allora io che cosa voglio fare qua dentro? voglio metterci dicevamo un titolino una carta di testo in cui posso inserire il nome un bottone che dica ok questo è il mio nome e un'altra area di testo in cui lui può il programma può rispondere allora vuol dire che ad esempio un titolo sarà una label la label la posso mettere nel top e qui mi fa l'anteprima di com'è l'applicazione quindi questa label la posso ci posso cliccare dentro e scrivere programma Hello mi e lui si riadatta come dimensioni poi devo inserire dicevamo una casella di testo un bottone e un'area di testo più grande in cui scrivere il messaggio allora io mi immagino adesso la casella di testo il bottone affiancati ma l'area di testo sotto quindi il layout me lo posso immaginare con due aree sovrapposte in quella inferiore c'è l'area di testo in quella superiore a sua volta la divido in due parti affiancate orizzontalmente che contengono la casella di testo e il bottone quindi dentro il centro quindi dentro la parte principale dell'interfaccia ci metterò una scatola verticale che contiene due elementi una scatola orizzontale e un'area di testo quindi qui ho nel centro una scatola una V-box una scatola verticale che contiene nella prima riga una scatola orizzontale e nella seconda riga un'area di testo che è questa qua nella scatola orizzontale ci posso mettere un campo di testo text field seguito da un bottone è brutto perché le spaziature sono tutte sbagliate se voglio vedere cosa succede capirlo meglio posso andare in preview e lui mi fa l'anteprima di questa finestra adesso questa finestra essendo una finestra vera può essere ridimensionata e io vedo che in realtà ho un titolino qualcosa in cui posso scrivere un bottone che posso premere e un campo di testo in cui in teoria potrei scrivere ma vorrei che fosse il programma a scrivere la risposta quindi io ho scelto quattro controlli label l'etichetta per il titolo text field per il campo di testo una parola da una parola a una riga un text field una riga sola il button e text area text area è un campo di testo su più righe l'unica differenza tra il text field e il text area è che il text field è su più righe e il text field su una riga sola per il resto si comporta allo stesso modo però visivamente ovviamente hanno ruoli diversi e questi li ho incasellati attraverso delle scatole v-box e h-box in modo che venissero impilati come volevo io non gli ho detto non ho detto al bottone stai 27 pixel più a destra della casella di testo non voglio impazzire dietro ai millimetri o ai pixel do delle regole logiche voi siete in fila indiana da sinistra verso destra e voi alti siete in fila indiana dall'alto verso il basso arrangiatevi e quindi quando l'utente ridimensionerà la finestra loro si entro certi limiti si riadattano quindi JavaFX la classe application madre ha già un suo algoritmo di layout abbastanza sofisticato di cui mi conviene fidarmi adesso ovviamente un pochino lo vorrei personalizzare una delle cose brutte di questo sim builder è che quando usiamo gli h-box eccetera lui da una dimensione preimpostata di questi elementi che magari non corrisponde alla dimensione del contenuto che ci voglio mettere dentro ad esempio questo bottone molto sacrificato infatti lui non riesce a metterci nulla mette solo puntini per dire non c'è spazio per scriverci dentro perché è tutto troppo stretto e prenditi lo spazio che ti serve e allargati come faccio? come faccio personalizzare questa cosa? ecco la personalizzazione la faccio attraverso le proprietà dei nodi quindi in questo fxml abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 nodi ciascuno di questi nodi ha delle proprietà che sono elencate nella colonna di destra ad esempio prendiamo l'h-box che è la riga che contiene l'area di testo e il bottone tutti gli elementi hanno le proprietà che sono divise in tre gruppi qua properties layout code properties sono le proprietà principali dell'elemento ogni elemento ha le sue a parte alcune che sono comuni a tutti layout sono le proprietà legate alle dimensioni e al posizionamento di quell'elemento quindi soprattutto nel caso dei nodi di layout tipo le box ti danno la spaziatura tra i vari elementi code sono quelle per agganciare dei comportamenti interattivi all'elemento stesso e sono quelle che legano la scena al controller le vediamo per ultime allora ad esempio nella parte di layout qui siamo nell'h-box ho selezionato h-box mi dice qual è la larghezza minima l'altezza minima la larghezza preferita l'altezza preferita la altezza massima scusami la larghezza massima l'altezza massima io quindi posso dare dei vincoli all'algoritmo di layout di java-fax su come voglio che questa h-box si comporti quando la finestra viene ridimensionata o quando il suo contenuto interno di ciò che contiene viene ridimensionato allora la cosa un po' antipatica è che in questo caso la larghezza e l'altezza preferita è stata impostata a 100 per 200 se io cambio e metto questo costante strana used computed size cambia istantaneamente e la mia v-box la mia h-box calza a pennello la dimensione del suo contenuto cioè la computed size di un elemento è la dimensione che quell'elemento deve avere per contenere esattamente il contenuto che ha i nodi che ha contenuti quindi di solito lasciamo fare a lui se mettiamo il computed size su tutte le box che creiamo viene fuori qualcosa di più decente vedete che il border pane era già tutto su computed la text area anche lì dava una larghezza minima e una larghezza massima se mettiamo computed ha subito un aspetto un pochino più gradevole per lo meno riusciamo a vedere gli elementi che abbiamo messo nella nella finestra quindi la parte di layout ci serve per questo se noi ad esempio avevamo il campo di testo e il bottone tutti appiccicati oppure il campo il bottone questa h-box questa riga orizzontale appiccicata all'area di testo è brutto da vedere diamogli un po' di spazio come facciamo a spaziare questi elementi? beh, diciamo alla v-box che li contiene cara v-box hai un attributo una proprietà che si chiama spacing che cos'è questo spacing? ci clicco sopra e lui mi dice che lo spacing è the amount of vertical space between each child in the v-box cioè quanto i vari figli della v-box quelli che vengono lineati in verticale sono spaziati l'uno dall'altro e 0 poco mettiamo 5 e vedete che sono già un pochino distanziati anche nell'h-box potremmo mettere uno distanziale di 5 così il bottone e l'area di testo sono leggermente staccati e poi gli mettiamo anche a tutta la v-box un po' di margine sinistro e destro margine anche lì un 5 questi numeri sono il margine superiore destro inferiore e sinistro si vede da queste iconcine che sono sopra quindi così ho ritoccato 5 pixel di margine per dare un pochino di aria a questa cosa poi si può giocare all'infinito su questi dettagli tutta l'impostazione visuale si gioca sulle proprietà di layout dei vari elementi poi ci sono le proprietà propriamente dette ad esempio l'etichetta la label ha una proprietà text che è il testo che essa visualizza e anche se è un titolo magari lo voglio più grosso di 15 pixel che è il default allora lo mettiamo da 24 così si capisce che è un titolo quindi gioco su delle proprietà proprietà text font text filth eccetera eccetera di questa label sul bottone non voglio che si chiami button quindi lui ha una proprietà text che chiamerò ciao e allora la proprietà text del bottone è il testo contenuto nel bottone stesso la casella di testo questo qui sono nella text field nella casella di testo ho due proprietà prompt text e text prompt text è il testo di invito ciò che compare nella casella quando non ci ho ancora scritto niente text text è l'effettivo contenuto del testo che l'utente ha scritto nella casella quindi io qua posso scrivere il tuo nome e compare in grigetto se faccio preview non c'è scritto niente il tuo nome scrivo fulvio e ovviamente compare il mio nome e non il testo di invito il testo di invito compare solamente se il contenuto è vuoto scrivo ciao e qua sotto il programma mi dovrebbe scrivere ciao fulvio un programma bellissimo, complicatissimo non me lo fa perché qui questo non ne manco il programma questo è solo l'editor grafico non siamo più in eclipse qua siamo solo disegnando l'fxml e l'fxml si porta in dote tutti i comportamenti automatici della class application di ciò che ci aspettiamo che facciano gli elementi grafici quindi riusciamo già a fare buona parte dei comportamenti a sforzo zero ok qual è il bello di questi campi text di tutte queste proprietà che ciascuna di queste proprietà si può leggere, scrivere, modificare da java quindi se io voglio sapere che cosa ha scritto l'utente in quella casella prenderò quel nodo di tipo text field e gli chiederò get text chiamerò il metodo get text e lui mi dà il testo che c'è in quel momento dentro quel bottone dentro quella casella di test e se voglio scrivere qualcosa in quest'area di testo che anche lei ha un attributo text chiamerò il metodo set text gli passa una stringa e lui quella stringa la visualizza lì sotto quindi tutte queste proprietà noi le possiamo impostare a mano per prepararci in interfaccia grafica va bene ma poi tutte sono accessibili direttamente dal programma dimmi fare tramite clips vuol dire scrivere l'fxml a mano? in xml? sì, certo l'fxml è un file di testo adesso poi lo vediamo l'ultima modifica che voglio ancora fare prima di tornare su java è che questo campo di testo sotto la cosa che non mi piace è che l'utente ci possa paccioccare dentro perché dovrebbe essere il campo in cui l'utente cioè il programma visualizza la risposta ad esempio una delle tante proprietà che ci sono è editable cioè questo campo è modificabile dall'utente o no? metto no e automaticamente l'utente non ci può più scrivere poi le varie altre proprietà le scopriremo quando ci serviranno queste sono quelle chiave ok ho fatto questo quindi ho trasformato una cosa vuota in alcuni nodi in una forma che mi piacciono salvando questo salvo questo e torno su eclipse posso se riaprissi questo file fxml vedo che non è più un file vuoto ma che contiene la mia label ho scritto programma lumi la vbox con le mie 5 pixel di spaziatura l'hbox che ha come due fili il text field e il button il prompt text eccetera eccetera ovviamente questo qua l'avrei benissimo potuto scrivere a mano ma è più comodo con interfaccia grafica oppure l'avrei potuto benissimo scrivere in java in java avrei potuto fare new text field e poi su quello set prompt text e tutte queste informazioni le creavo dentro questo vanno a finire dentro oggetti java e quindi se rifaccio run adesso del programma mi riparte la finestra che non è più una finestra vuota ma una finestra che contiene la mia applicazione adesso ha la dimensione sbagliata perché il programma che mi viene impostato di default ha questi parametri 400 400 sulla creazione della scena che è la dimensione della scena se io li tolgo dico l'application calcolatela tu la dimensione della scena e così me la fa di misura per la mia applicazione allora questo somiglia a quello di prima con la differenza che quello di prima era la finestra che mi dava l'editor per fare il preview questo invece è il mio programma vero e proprio già la classe application mi da già tante l'effetto il fatto che il bottone si evidenzia se ci passo sopra qua posso fare copia incolla annulla modificare cancellare il testo eccetera selezionare tutte queste funzioni di base le ho già gratis cosa manca? manca la possibilità di fare qualcosa di definito dall'utente cioè io voglio fare qualcosa quando l'utente clicca su ciao e cos'è questo qualcosa? prendere un dato che sta qua e scrivere un dato che va a finire là ok? allora per fare questo mi servono ancora due ingredienti mi serve poter accedere dal programma java ad alcuni dei nodi della scena cioè dal programma java accedere al nodo vbox non mi frega niente cioè mi interesserebbe se volessi dinamicamente da java modificare la spaziatura della vbox ma chi se frega ma mi interessa poter accedere a questo nodo e a quello sotto come faccio a rendere visibile un nodo che non ho creato io un oggetto java che non ho creato io ma che ha creato l'fxml loader come faccio a renderlo visibile al programma java? facile perché l'fxml già lo prevede tra le varie proprietà adesso andiamo in code ci sono quelle la finestra code è proprio quella che collega l'interfaccia grafica al codice che la deve elaborare ogni elemento può avere un campo che si chiama fxid identity l'identità di quel nodo lì posso dare un nome al nodo questo nome verrà trasformato alla fase di loading automaticamente in una variabile java quindi questo qua lo posso chiamare txt nome metto txt così mi ricordo che è un testo assegnando semplicemente al campo fxid c'è la proprietà fxid dentro identity dentro code il nome con cui io voglio chiamare la variabile java di quell'oggetto e viceversa la casella di testo la textarea sotto anche qui la chiamerò txtarea ad esempio o result chiamiamola così dove metto il risultato del programma result txt result allora quando l'fxml loader carica il file xml il mio lomi.fxml ogni volta che trovo un elemento che ha questo attributo fxid settato crea una variabile java e le inizializza quella variabile all'oggetto al nodo corrispondente a quel pezzo di interfaccia grafica e quindi io a quel punto potrò fare txt result punto set text di ciò che voglio io dal mio programma quindi concettualmente io adesso salvo questo posso tornare su java riaprire questo file e vedo che sono stati aggiunti questi attributi fxid il problema è quando è che il programma java dovrà fare queste operazioni beh quando l'utente clicca su ciao allora dovrò fare in modo che un mio metodo che scrivo io venga chiamato esattamente quando l'utente clicca su ciao in tutti i in tutte le interfacce grafiche in particolare in java effect ma in tutte le brie grafiche metà del lavoro lo fanno i nodi con le loro proprietà che dicono questo nodo come deve essere come deve essere contenuto come deve comportarsi eccetera eccetera l'altra metà del lavoro lo fanno gli eventi cioè l'evento è un altro oggetto java che registra il fatto che succede qualcosa in un certo punto dell'interfaccia succede qualcosa cosa che l'utente ha premuto un tasto che l'utente ha spostato il mouse che l'utente ha cliccato il mouse eccetera eccetera ogni volta che noi facciamo qualche cosa anche di piccolo su questa interfaccia generiamo decine di eventi ho spostato il mouse un po' più in alto ok ho scritto ho schiacciato la lettera q ho cliccato qui ho ridimensionato la finestra ciascuna delle micro azioni che facciamo genera uno o più eventi cosa succede a questi eventi qui ci sono piccoli oggetti java che dicono l'utente ha fatto questo l'ha fatto anche a chi perché cliccare qui e cliccare qui sono due cose diverse l'evento è sempre click ma l'elemento grafico su cui il nodo su cui è stato fatto il click cambia allora cosa succede a questi eventi a vengono ignorati se sposto il mouse qua questo evento viene ignorato se lo sposto qua no perché mi permette vedete che fa evidenziare il bottone allora a vengono ignorati b vengono gestiti da application in automatico ci pensa la classe application a evidenziare questo bottone c mi registisco io perché devo fare qualcosa che serve a me allora su mille eventi che vengono generati uno mi interessa quando l'utente clicca su ciao come faccio vado sul bottone ciao e tra le proprietà code vedete che ci sono una serie di proprietà che iniziano con on 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 sono tutti i tipi di eventi che quell'elemento in questo caso questo bottone può generare e in particolare il primo è quello più importante on action l'evento on action di un bottone scatta quando il bottone viene cliccato viene attivato può essere cliccato può essere premuto con lo spazio perché posso anche usarlo con la tastiera la classe application mi permette di usare mouse e tastiera indifferentemente e allora in questo caso qui dentro nella proprietà on action ci posso inserire il nome di un metodo java che scriverò io che voglio che gestisca questo evento e quindi sarà un event handler un gestore di evento un metodo che chiamo handle ciao handle ciao cioè quando l'utente seleziona quel bottone chiama il metodo handle ciao che poi devo scrivere adesso allora salvo l'fxml di nuovo torno su eclipse verifico che eccolo qua il mio bottone on action uguale handle ciao adesso questo metodo handle ciao dov'è? dove lo scrivo? lo scrivo nella classe controller dentro questa classe controller dovrò scrivere questo metodo la classe controller dicevamo prima in sintesi dicevamo all'intelligenza dietro l'interfaccia cioè decide l'interfaccia che cosa deve fare quando devo fare le azioni semplici di default di evidenziare il test il bottone eccetera le azioni definite dall'utente allora per aiutarci ancora di più lo sim builder è capace quando noi abbiamo definito tutto ciò che ci serve quindi cosa abbiamo definito? vabbè prima i nodi, la scena, le proprietà ma poi quando abbiamo cominciato a pensare al funzionamento dell'applicazione abbiamo definito due cose i nomi FXID dei nodi di cui ci interessa poter leggere o scrivere delle proprietà uno due gli eventi che ci interessa gestire direttamente a me non frega niente gestire quando l'utente clicca qua dentro mi interessa quando l'utente clicca qui allora definisco un gestore di evento solamente sul bottone ciao e non sui 12.000 eventi che può avere la casella di testo avendo definito queste due cose cioè i nomi, gli FXID, gli identificatori dei nodi di cui mi interessa leggere o scrivere le proprietà questa è la frase che ho ripetuto un po' di volte così ci viene in testa e gli eventi i gestori degli eventi che voglio i nomi dei gestori degli eventi che voglio gestire quindi vado qua in questo menu e c'è una voce view show sample controller skeleton cioè fammi vedere un esempio di uno scheletro di una classe controller che vada bene e questa classe controller è fatta così qui class lomi controller e poi ha textField textNome textarea textResult cioè definisce le variabili java corrispondenti ai nodi di cui ho specificato un identificatore a mio piacere e mi crea già il metodo handle ciao legato all'evento del bottone poi posso scegliere, posso chiedere che questa classe abbia anche dei commenti e full mi aggiunge dei metodi in più di controllo quindi io di solito lo faccio sempre quindi mi faccio creare uno scheletro di controller copia torno su eclipse incolla quindi la classe controller che eclips mi aveva creato vuota io posso popolare con un controller minimale che lo simbuilder mi permette di creare, di visualizzare dopo che ho definito gli elementi principali dell'interfaccia allora quindi questo lomi controller cosa fa? contiene txtNome che è un textField txtResult che è un textarea e poi handle ciao che è vuoto vediamo un po', se io qua ci scrivo system.out .println qualcosa dai vai via finestra inutile cosa succede al mio programma? se rilancio il main ogni volta che clicco su ciao vedete che nella console di eclipse, quindi nello standard output del programma stampa i quindi vuol dire che ogni volta che clicco su ciao viene chiamato e viene eseguito quel metodo lì il controller quindi questo è un meccanismo di programmazione reattiva i metodi che io scrivo non vengono chiamati quando lo decido io verranno chiamati quando l'utente farà certe azioni nell'ordine con cui all'utente piacerà io non so a priori se in questo caso ho un evento solo quindi quello che devo gestire ma se avessi più eventi quindi corrispondente a più azioni diverse dell'utente non saprei quale lui fa prima quindi devo pensare in generale di poter gestire tutti i casi quindi il controller fa quello di mestiere aspetta le azioni dell'utente e reagisce in modo giusto qual è il modo giusto? chiudiamo il programma e il modo giusto sarà innanzitutto devo leggere qual è il nome dell'utente e poi usarlo per scrivergli un messaggio di benvenuto allora come faccio a sapere qual è il nome che l'utente ha scritto? vabbè è la proprietà text del nodo txt nome quindi il nome dell'utente string nome non sarà altro che txt nome punto get text quindi siamo sempre in un handler quindi quando l'utente quando scatta l'evento cioè quando l'utente clicca su ciao vado a prendere ciò che il casella nome contiene il testo che contiene la casella nome in quel momento e una stringa e string messaggio posso creare un messaggio che è del tipo benvenuto virgola spazio più nome punto esclamativo a capo creo un messaggio di benvenuto personalizzato per quel nome e poi potrò visualizzare questo messaggio nell'area di testo e come faccio a far comparire qualcosa in un'area di testo? modifico la proprietà text di quel nodo quindi il nodo che si chiamava txt result set text message quindi quando l'utente cliccherà su ciao non stampo più il messaggio ai sulla console ma prendo il contenuto della casella di testo e gli aggiungo un pezzo e lo visualizzo nell'area di testo sottostante vediamo se è vero rilanciamo il main l'ho fatto? no quindi se scrivo il mio nome clicco su ciao e lui mi scriverà benvenuto Fulvio se scrivo un altro nome scriverà anche benvenuto Giuseppe lo sostituisce a quello precedente ho fatto un set text in cui rimpiazzo al valore precedente che aveva la proprietà il valore nuovo se non volessi dovrei fare un get text quindi prendo il valore vecchio ci sommo un pezzo e rifaccio il set oppure c'è un metodo che chiama append text per aggiungerlo in fondo no? sono dettagli che poi potete scoprire andando a vedere i metodi però ad esempio sarebbe brutto se l'utente è pigro scrivere benvenuto punto esclamativo no? se l'utente lancia il programma e scrive ciao subito è una condizione anomala non posso impedire all'utente di scrivere ciao subito ma se lo fa devo gestire l'errore quindi il mio programma dovrà gestire anche cosa succede se questo nome è vuoto se l'utente non ha scritto nulla quindi if nome length uguale 0 allora è caro mio gli dirò ti stirrà al punto set text dai errore deve inserire un nome altrimenti va bene quello che facevo prima quindi adesso se l'utente è pigro si becca in cambio un messaggio di errore se lui scrive il suo nome viene salutato correttamente se è antipatico questo caso qui non l'ho ancora gestito no? il fatto che quello è una stringa non vuota ma non è una stringa che corrisponde a un nome beh se uno deve inserire tutti i comportamenti anomali di solito ma nei programmi reali è maggiore la quantità di codice per gestire anomalie che non la quantità di codice per gestire il caso normale questo teniamolo in conto sul testo essenzialmente i metodi principali il testo dove è il testo? è il testo è il testo visto che sono i primi con cui lavoreremo text field e text area hanno come metodi principali cioè come proprietà principali la proprietà text dicevamo quindi posso fare get text o stack text ma in più qui ci sono i metodi c'è anche un aspetta eh lo trovo perché è scritto piccolo append text che serve ad aggiungere del testo senza cancellare quello precedente c'è anche un clear che a zera vuota la casella ok? cancella ciò che c'era prima è come fare un set text di una stringa vuota la cosa il dettaglio che ci può servire è che quando io faccio il get text di una cella in cui l'utente non ha scritto nulla mi restituisce comunque una stringa che è una stringa vuota non mi restituisce null altri controlli tipo il menu tendina quando l'utente, lo vedremo poi, quando l'utente non seleziona nulla invece restituisce null e non la stringa vuota quindi bisogna fare attenzione al tipo di controllo che si fa a seconda del tipo di nodo con cui dobbiamo interagire qui ho fatto una cosa molto semplice nel senso che tutta l'intelligenza del programma è contenuta in questo singolo metodo ciò che dovete fare domani in laboratorio vi chiederà invece non solamente di scrivere un nome ma di memorizzare una lista di questi nomi che vengono via via inseriti allora questo controller è una classe come tutte le altre quindi io potrò definire le mie variabili le mie linked list, le mie array list, le mie strutture dati ad esempio dentro il controller e quindi aggiungere a queste strutture dati i valori che vengono via via inseriti quindi è una classe come tutte le altre in questo caso non ho avuto bisogno di definire altre variabili qua dentro ma lo posso fare tranquillamente se mi serve in questo caso l'unica variabile che mi serviva era questo messaggio ma poi subito dopo lo dimentico perché non mi serve per le iterazioni successive domani faremo così lavoreremo direttamente dentro la classe controller la settimana prossima ci renderemo conto però che su programmi di certe dimensioni quando cominciano a crescere di complessità fare tutto dentro il controller è troppo pasticciato perché il controller deve gestire l'interazione utente gestire gli errori e poi anche implementare gli algoritmi diventa una classe mostruosa e allora impareremo come separare la parte dell'algoritmo dalla parte di gestione dell'interfaccia ma facciamo un grado per volta ci sono domande su questo per oggi? dimmi no allora allora Eclipse allora ci sono due due metà della domanda una è per editare un file in SimBuilder lo posso aprire normalmente andandolo a pescare da dentro il workspace c'è un minimo di automazione per cui posso abilitare questo menu applico un SimBuilder se ho impostato dentro le proprietà di Eclipse la posizione dell'eseguibile di SimBuilder questa è la prima metà quindi si può semplicemente fare open with SimBuilder e lui me lo apre adesso mi dà errore perché non ho impostato quella proprietà ma altrimenti mi aprirebbe SimBuilder già con quel file aperto poi c'è un secondo problema che vi beccherete di sicuro il laboratorio è che se voi modificate l'fxml e lo salvate Eclipse non se ne accorge per cui se io adesso aggiungessi un altro bottone qua che non serve a niente ma male non fa salvo e rilancio il programma il bottone non c'è allora a questo punto voi cominciate a imprecare nelle lingue più strane ma non c'è non c'è lo vedo eccetera il motivo qual è? è che hai modificato un file dentro il progetto di Eclipse ma Eclipse non se ne è accorto per fare in modo che Eclipse se ne accorga è sufficiente aprire l'fxml dentro Eclipse allora lui lo rilegge mi ha modificato un file lo rileggo e poi funziona quindi se vi sembra di aver modificato qualcosa nell'fxml e il programma non se ne accorge probabilmente è perché Eclipse non si è accorto che avete modificato il file l'fxml basta tenere aperto e prima di fare run ricordate di fare un giro dal tab dell'fxml è una stupidaggine di Eclipse ma dobbiamo conviverci io pubblicherò questo progetto adesso su Github con un nome che si chiama HelloMe per cui ve lo potete andare a guardare già tra dieci minuti in avanti poi la settimana prossima impareremo anche l'operatività da parte vostra su Github direi che per oggi è sufficiente il crash course vi ha mandato in crash ci vediamo in laboratorio